Con un'indagine lunga tre mesi, un'attività tecnica importante, i carabinieri hanno messo uno stop a quello che era diventato purtroppo un crocevia dello spaccio. Sono state emesse delle ordinanze, delle persone sono state arrestate, cerchiamo di fare il punto di queste indagini. L'indagine Clean Garden conclusa come fase intermedia ieri sera dai carabinieri della Compagnia della Spezia muove le mosse fondamentalmente da una lunga attività di osservazione condotta con le pattuglie impegnate in controllo del territorio che dall'inizio dell'anno avevano dato una serie significativa di eventi, di arresti e di sequestri operati proprio in quell'area del centro cittadino caro come i giardini di via Chiodo. Nel mese di agosto si è deciso di approcciare in maniera più sistematica l'attività di controllo e per cui sotto la direzione della Procura della Repubblica della Spezia si è avviata un'attività di osservazione tecnica supportata ovviamente da componentistiche di natura tecnica, quindi videocamere e servizi connessi, che ha consentito di iniziare a documentare quella che era una vera e propria centrale degli incontri per poter cedere stupefacente a tossicodipendenti ma anche occasionali acquirenti che ovviamente in direzione del consumo delle sostanze leggere, cosiddette leggere, trovavano in quel posto riferimenti con spacciatori di fatto fissi ad arco orario. La parte che più ci preme sottolineare come impegno dei Carabinieri è stato appunto quello di poter ricorrere alle cosiddette operazioni speciali previste dal testo unico delle leggi sulle stupefacenti che individua la possibilità di differire gli atti di arresto e di sequestro, per cui l'osservazione è stata prolungata e ha consentito appunto di documentare intanto le attività di spaccio ma anche il movimento di questi signori sul territorio cittadino. Cerchiamo di fare il profilo di queste persone che sono state fermate, uno dei dettagli che emerge principalmente è che sono persone giovanissime. Sono persone giovanissime e nella totalità migranti ma anche acquirenti giovanissimi, nella quasi totalità italiani. Questo riteniamo sia un dato importante da prendere in considerazione laddove, ripeto, questa città più volte si è posta il problema di cosa possa costituire pericolo per i propri cittadini. Noi non riteniamo che ovviamente la battaglia sia conclusa, nel senso che ormai lo spazio delle sostanze stupefacenti purtroppo fa un po' parte della realtà che ci circonda, però attraverso il nostro sistema attento, silenzioso, riservato del controllo del territorio e tecnicamente avanzato delle nostre investigazioni, siamo convinti di continuare a provare a proteggere questa città.